Il piano criminale di Elena e Giovanni ha dei contorni agghiaccianti. La loro chat si ferma a pochi minuti dall'omicidio di Aldo Gioia. Nelle conversazioni è chiaro il loro progetto di uccidere tutti e poi scappare via da Avellino. L'unico ostacolo è la cagnetta Milli. Lui era preoccupato che il cane, abbaiandolo alla porta, avrebbe fatto saltare il blitz. Ma Elena tranquillizza Giovanni, penso io a Milli, gli dice mentre prepara i quattro zani, con i quali poi, consumati tutti e tre i delitti, sarebbero fuggiti. Ma la ragazza ha avuto un ruolo, se si può, ancora più agghiacciante. Sua è l'idea che non solo il papà sarebbe dovuto morire sotto i colpi del coltello. Lui, fino all'ultimo, le chiede conferma. Ma anche Emilia, sei sicura? E dall'altra parte la risposta glaciale. Sì, amore, capisci meglio cosa intendo. Mia sorella non può rimanere, non rimane nessuno. Gli altri dettagli sono noti. Elena scende a buttare la spazzatura, risale insieme a Giovanni, al quale lascia la porta aperta. Prende Milli con sé e se ne va nella sua camera. Giovanni entra in casa. C'è il tempo per un ultimo agghiacciante messaggio. Sono dentro. Lei, implacabile, dice vai, amore. Aldo viene attinto dalle prime coltellate mentre si trova in dormiveglia. I medici del pronto soccorso riferiscono di essersi trovati di fronte a uno spettacolo rabbrividente. Aldo non muore subito, grida come un ossesso e chiede aiuto. Ai poliziotti che gli chiedevano chi fosse stato poco prima di ispirare, Aldo ha taciuto la verità. Fino all'ultimo respiro ha risposto all'odio innaturale della figlia con l'amore di un papà.